Eroi del nostro tempo, armati di coraggio e di sorriso, segnato e nascosto dalle mascherine, sono gli infermieri che non abbiamo mai ringraziato abbastanza in questi due lunghi mesi di emergenza sanitaria. Oggi è l'occasione giusta per ricordarli tutti, quelli che continuano a lavorare anche con turni estenuanti, quelli che per curare pazienti affetti da Covid ci hanno lasciato la vita, perché oggi si celebra la giornata internazionale dell'infermiere, una data che in questo momento storico più che mai assume una valenza più forte, visto il grande lavoro svolto dagli infermieri in questa emergenza coronavirus. In Italia i numeri ci raccontano una realtà drammatica che ha toccato gli eroi delle corsie. Si parla di 12.000 contagi, 38 morti e 4 suicidi, numeri che hanno un nome e un cognome che in questa giornata vanno ricordati ancora una volta. I cittadini lanciano anche messaggi di speranza e incoraggiamento ai colleghi impegnati nella lotta al Covid-19, soprattutto nelle zone maggiormente colpite. Un racconto intenso, attraverso scatti e selfie raccolti in un video, arriva anche dagli infermieri dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Un modo per dire noi ci siamo, sempre.